Ciao a tutti ragazzi, voglio farvi vedere in questo mio nuovo video, in questo mio nuovo canale, che è il mio primo canale. Come si fa a fare questo fiore? Allora, prima di tutto bisogna prendere i colori per fare il fiore, che io ho scelto blu, arancione e giallo. Prendo il primo colore, nel mio caso il blu, lo infilate dentro l'uncinetto, lo girate e lo rinfilate dentro l'uncinetto, lo rigirate e lo rinfilate dentro l'uncinetto. E voglio anche dirvi che questo fiore è a 5 pedali. Poi prendiamo questi due e li andiamo a prendere con la punta dell'uncinetto e infiliamo tutto questo e infiliamo quello blu qui dentro. In questo modo, abbassiamo e infiliamo. Dopodiché facciamo gli altri 4. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 8. 8. 8. 5. 9. 10. 10. 10. 10. 10. li farò vedere quando l'avrò fatti tutti eccolo qua i cinque petri dopodiché bisogna prendere un elasticchetto nel mio caso il giallo e farci passare dentro tutti questi petali in questo modo io adesso taglio ecco qui una volta che è avvenuto questo che sono legati tutti con quell'elasticchetto in questo modo prendete un altro elastico sempre dello stesso colore e lo tirate in questo modo così e ci passate dentro i rastighetti ora bisogna fare noto non ce li abbiamo così a questo punto noi li mettiamo quello che sta di qua lo mettiamo di qua e questo qui che dovrà stare di qua lo mettiamo di qua e adesso li lasciamo lo tiriamo un pochettino e ecco a voi il fiore ditemi se non è uguale all'altro beh ehm volevo dirvi per oggi è tutto ehm ci vediamo al prossimo video come al solito mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale e commentate alla prossima ciao 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 ciao